Qua si vede tutta la... La MSC lontana, ma... Donna di onde? Cazzo a cazzo, mi pinoceiano Una nave da crociera Un'altra? Una montagna che mi fa fare così Vai, la nave che ti va a chiedere Hai scambiato una montagna per una nave da crociera? Grande Dai che siamo quasi arrivati Poi la parte con la peritura a Island si va di qua Con la con le canoë Oh, che bello quello qua Guarda la coni Stopp Stopp Oddio Un'altra 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 La sesa Non sembra fossero animali Siamo quasi arrivati al posto Il verde è scuro Soprò che bello Prima c'erano gli tsunami Ora è piatta l'acqua Guarda qui che bel verde Acqua Si può imparare con la Sardegna Fa una diversa Ma il fondale è sabbioso Ma è sabbioso qualche scoglio Vabbè tu sei vecchia Che vuoi vedere Allora, benvenuti alla Sardegna Abbiamo più di un'attività del Vesco Il Vesco è scelto di leader d'acqua A 1.45 Quale tempo avete? O in Sardegna o in Alantan? Cosa? C'è detto Il Vesco è scelto di leader d'acqua a 1.45 Perchè voi andate in un'attività Che vi faccio il tuo motore è venuto a portare il volo e tu sarai tornare un po' prima per farvi un po' di carattere e fare un po' di carattere e fare un po' di carattere c'è prela, spiaggia dove dobbiamo andare in pratica stai spiegando questo è un overlook sssssss sssss questo è un overlook per l'olish resort in l'islanda di St John è il canile di 160 città di questo è il nostro progetto il progetto è il progetto è in un'altra parte e ogni parte ha un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di 7 di loro sono stati in questo progetto come si è in un'altra parte è un po' di un lice che non si può vedere in fronte con i bici in fronte in marzo del 1917 e quando avevo il controllo di l'islanda creando di sugar, rum e molasses era la principale industria e dopo che l'America si è finita in 1917 si è diventata la principale industria l'islanda di l'islanda è il turismo quindi quando tutti vengono a l'islanda bisogna essere molto felici questi sono i taxi che usano qui ai Carabbi la cosa strana che noi, guardate l'autostrada cioè in Italia noi camminiamo a destra loro camminano a sinistra loro invece a destra vanno all'indietro cioè è strano visto che mia madre si lamenta sto a fare il video comunque questa è la spiaggia del Carabbi madonna porca mi sono appena fatto il bagno la sabbia non si stacca più dalle mani tipo cioè mmm pesci enormi in alto parola più grandi di me mi passavano ogni poco sotto le gambe cioè proprio uccelli esotici ovunque sta lamentando un'altra volta vabbè comunque questa è la spiaggia un'onda vabbè al prossimo video